... Tutto pronto a Vagnano per la seconda corsa a Via Le Femmine di 4 anni Sono in 19 8 in prima, 8 in secondo, 3 in terza Su Bellucci c'è Francesco Dufano Problemi per Baby Kid Truppo in fase di allineamento Tornano dove dovevano essere il 9 e 17 che partivano dietro Baby Kid Truppo Molto lenta anche Baby Girl In partenza Baltimore Jet è impegnata da Basile Asco assume l'iniziativa alla leva di Lucio Curato nei confronti di Baltimore Jet e Bahamas in terza ruota Bandera Gar 14 e mezzo in lancio Bandera Gar va in seconda pariglia Bea Laser in terza pariglia Di rotture ce ne sono molte al completamento della prima piegata Trenta scarsi il quarto iniziale con Bahamas che insiste su Basile Asco Sembra poterla sopravanzare interviene a largo Baltimore Jet che non voleva restare chiusa la corda e si è spostata subito in scia Bahamas Ne vengono fuori 600 in 45 e 3 Corre davanti Basile Asco Bahamas costretta a largo adesso Si arriva così agli 800 percorsi in 1 e 2 Baltimore Jet in seconda pariglia Terza pariglia per Bandera Gar Altezza del chilometro Baltimore punta in terza ruota lunga Basile Asco 17 e 2 il chilometro le prime posizioni ancora Bandera Gar anche Bandera Gar che non ha ancora carburato si aggiunge alla lotta anche Basilia 1 e 32 e qualche decimi tre quarti di miglio la mossa in terza ruota di Bandera Gar di dentro c'è Basilia in cerca di Varco poi Bea Laser ingresso in retta con Basile Asco che ha ancora vantaggio sempre sui fianchi Baltimore Jet poi Bandera Gar poi Basilia tiene ancora la leadership Basile Asco Basile Asco è luce curato fin sul traguardo mentre Baltimore Jet è seconda ed al terzo Basilia Basile che ci ricorda tanto il nostro adorato professor Capasso che ne era all'allevatore termina al terzo posto Basile Asco alla grande luce curato contro i professionisti il training di Nicola Merola e luce curato anche alla proprietà ma questo era conseguente media che dovrebbe essere intorno all'1.17 secchi per la figlia di Espluacaff doppia a seguire per Espluacaff in questo caso la maternità di Tillisco è tutto lì nello studio Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.